Sì, è stata una piacevolissima sorpresa, sono quasi commossa, quindi sono arrivati questi bellissimi fiori da parte di tutti e due. Dopo che li ho incontrati è stato un gesto veramente gentile e carino. Oh, well, it's a little weird that they're getting married, since she used to be engaged to Chris Klein about a year ago, but we're still already crazy, so we're here. And this is like a fairy tale, so I'm sure it'll be gorgeous. Grazie. 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 Camera Gentile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.